Salve, sono Alessio Rimoldi, segretario generale del BIBM, la federazione europea dell'industria del calcio e struzzo prefabbricato e mi trovo qui oggi con Antonella Colombo, membro della segreteria di Assobeton e responsabile della comunicazione interna. Buongiorno Antonella. Ciao Alessio, è un piacere di vederti. Grazie. L'Italia ha due speaker al congresso del BIBM. Il primo è Marco Pecetti che tra l'altro è anche membro del consiglio di amministrazione di AIFA, partner di BIBM nell'organizzazione del congresso e che ci parlerà dell'influenza della sostenibilità nei metodi di produzione del calcio e struzzo in Italia. Cosa puoi dirmi di più? Esatto, Marco si occuperà di questo aspetto, ma in Italia oggi come oggi sostenibilità è la parola chiave, è al centro di tutta la rivoluzione, se possiamo chiamarla in questo modo che sta avvenendo proprio oggi in Italia. È una richiesta delle ultime normative nazionali legate essenzialmente ai lavori pubblici, ma che si stanno espandendo anche ai lavori privati. La richiesta è proprio quella di essere sostenibili, sostenibili nel livello produttivo, sostenibili nei prodotti, nel consumo delle materie e questo fa sì che anche la produzione di elementi prefabbricati, nonostante sia intrinsecamente sostenibile, debba essere in qualche modo modificata e questo lo sarà a livello produttivo, a livello di controllo dei materiali, in tanti aspetti diversi. E Marco Pecetti farà un escursus di tutto quello che sta succedendo in Italia. Bene, sarò proprio curioso di sentirlo. La seconda invece sarà piuttosto sul settore dei blocchi e in particolare sulla ricerca al fuoco, ma non veramente dal punto di vista tecnico, ma forse più da come un'associazione possa aiutare i suoi associati, i suoi membri. Esatto. Sul tema fuoco concedetemi una battuta. Come tutti sanno, nel caminetto, come diceva il nostro past president, nel caminetto bruciamo elementi di calcestruzzo, non di altro materiale. Certo. E quindi, ecco, dobbiamo cercare di far capire, di far passare questo messaggio. Il calcestruzzo ha delle intrinseche, alte caratteristiche di resistenza al fuoco. Queste vanno dimostrate, vanno sostenute e queste attività fatte a livello di singola azienda possono comportare dei costi molto elevati. Questo è il motivo per cui Assobeton ha deciso di portare avanti un'attività comune, a beneficio di tutti i soci. E questo è anche un esempio della forza di fare il gruppo, di cosa un'associazione può fare per i propri membri. Per me è interessante anche questo. Un congresso internazionale. Noi sappiamo che il settore della pubblicazione è un settore abbastanza locale. Penso che molte delle associazioni hanno i loro propri congressi, ma cosa ti aspetti di trovare a un congresso internazionale europeo, ma anche mondiale da un certo punto di vista, organizzato dal BIBM? In Italia si dice che la prefabbricazione non fa turismo. Nel senso che soprattutto per quel che riguarda gli elementi di grosse dimensioni legati alla realizzazione di strutture, il movimento o la percorrenza media avviene nell'arco di circa 150 km. Quindi è qualcosa di estremamente settoriale e locale soprattutto. Partecipare a un congresso come quello di BIBM, internazionale, europeo, ci sono anche dei relatori che vengono dal di fuori dell'Europa, dal Cile. E' stata una grossissima esperienza, stata un'ottima occasione di scambio, un'ottima occasione di confronto con amici, colleghi, competitors anche, e un'ottima occasione anche per crescere insieme, per imparare l'uno dall'altro. In effetti, se il castruzzo non viaggia, però le idee... Assolutamente, sì. Finalmente, magari per finire una domanda forse un po' più difficile, come vedi il futuro della prefabbricazione in Italia? Se posso qui fare un commento estremamente personale, da una persona che lavora in associazione da più di vent'anni. Io credo fermamente nel potere, nella potenzialità più che nel potere, nelle potenzialità della prefabbricazione, che è una tecnologia intrinsecamente sostenibile, che è una tecnologia che possiamo vedere in tutti i giorni, la prefabbricazione è tutta attorno a noi, è ovunque, e io credo fermamente che insieme potremo dimostrare queste nostre potenzialità e rendere in realtà finalmente. Insieme a livello italiano, a livello europeo e a livello internazionale. Assolutamente. Speriamo di vedervi al congresso. Speriamo di vedervi al congresso.